Buonasera e bentornati, siamo ancora qui a Il Candidato, sono le 23.10, siamo in diretta dalle 18.30 di oggi pomeriggio e io ho perso il conto, non so se qualcuno ha fatto il conto di quanti candidati sono venuti, ma mi sa che alla fine nessuno ce l'ha fatto perché ho perso il conto. Ne sono venuti di tutti gli schieramenti, veramente li ringrazio tutti quanti, ringrazio anche quelli che ci hanno scritto che all'ultimo non sono potuti venire. Devo dire a uno del vero che ringrazio anche i candidati consiglieri del partito radicale che doverono essere qui presenti, ma ovviamente un aperitivo con Eva Bonino per loro era il massimo e quindi questa sera non sono riuscito a venire perché c'era questo momento elettorale con Eva Bonino, li scusiamo, ci mancherebbe. Per fortuna abbiamo avuto tanti altri ospiti e ne abbiamo qui quattro, abbiamo qua la nostra platea completamente piena. Toscano l'ho interrotta poco fa mentre parlavamo appunto di Area C che mi spiegava un discorso che ci vorremmo una trasmissione solo per quella, però concluda pure di quello che stava dicendo. Ma diciamo che immaginerei una città molto più vivibile, purtroppo i trasporti sicuramente sono un problema, ma se potenziamo i mezzi pubblici molto di più di quello che è stato fatto fino adesso, tenendoli magari anche bene, puliti, efficienti e quant'altro e risparmiamo il traffico automobilistico perché potenziamo anche la mobilità sostenibile tramite mezzi alternativi, insomma, bike mini, potenzialmente potenzialmente periferie per esempio e poi speriamo che in futuro mano a mano possa ridurre questo traffico, io lo vedo un nemico perché già Milano ha grossi problemi di inquinamento anche a livello di terreni, caldaie, esatto, piuttosto che deve tenere monitorato i fattori di inquinamento anche nelle acque, eccetera, quindi è molto importante per vivere meglio e reintrodurre il verde, pedonalizzare, R30, eccetera. Passiamo allora agli esperimenti della Lega, Laura Aguzzi, anzi ci tenevo a ringraziare i ragazzi della Lega, adesso non è un ringraziamento politico, ci mancherebbe anzi, è tutt'altro ma è un ringraziamento ai ragazzi della Lega che sono venuti in 8-7, coprendo quasi tutte le zone di Milano, hanno fatto una pullman credo, sono venuti qua con un pulmino, me l'immagino un bel Volkswagen di quelli di una volta, sono venuti qua a presentarsi tutti giovanissimi, a presentarsi ai cittadini, devo farvi veramente i complimenti per questo, Laura Aguzzi, però i problemi sono quelli, anche per voi, anche se siete giovani l'area C, anzi, è un problema forse anche grosso anche per voi. Sì, sì, assolutamente, il traffico a Milano è un problema molto grave, però secondo noi l'area C è comunque, non è la soluzione ideale, ecco, diciamo così, noi proponiamo un'idea che secondo noi è la più efficace, quella di estenderla ai confini della città in modo tale che siano le persone che usufruiscono dei servizi nella città di Milano, ma non pagano le tasse, perché ovviamente sono residenti in altri comuni, a pagare nel momento in cui accedono alla città. Quindi l'area C non penalizza più i milanesi, ma quasi di tutela, di valorizza, diciamo, perché comunque noi siamo da parte milanese. Salto per andare da Salino, per poi tornare poi dall'area della Lega, però almeno facciamo se no... Salino, una sua idea più personale, perché mi ha capito, c'era la lista, poi va la sua, ma più personale di lei su come... su cosa fanno di questa area C, se l'angarla, restringerla? Io la vivo non tanto come un problema, ma come un'opportunità, nel senso che l'area C, pedonalizzata o comunque sia, che ha ridotto molto il traffico, è molto più vivibile, quello è un dato oggettivo. Perché non solo l'area C, quella classica della cerchia dei bastioni, e non magari delle aree centrali nelle altre zone, con la stessa peculiarità che possono essere valorizzate? In zona 3 ce ne possono essere. Faccio un esempio, un esempio della mia zona è stato, per esempio, questi cinque anni c'è stato, diciamo, il tentativo, la sperimentazione di chiudere Buenos Aires al traffico delle macchine una domenica al mese. So che c'è un progetto molto più grosso, anzi, quello di chiudere Buenos Aires completamente, il progetto c'è. Sì, però diciamo, iniziamo con le cose un po' più calme, tiepide, perché comunque per chiudere un'arteria come quella lì, ovviamente poi si deve anche commisurare tutto un serio di equilibri di trasporto e un problema logistico non indifferente, quindi bisogna fare le cose posate. Però una domenica al mese, una domenica al mese, una ripeto, può essere già qualcosa di importante e riabituare la cittadinanza a vivere le strade in un altro modo. Poi quella è una zona altamente commerciale e chi ha un'attività lì ha sempre beneficiato di una perdonalizzazione. Un esempio che è stato di successo è stato non una volta al mese, ma purtroppo una volta all'anno, il miglio dello sport, che è stato un successo dell'aggiunta attuale, in Edoatto, dell'aggiunta attuale della zona 3, del municipio 3, dove la prima volta è stata la prima domenica di ottobre, poi dopo hanno spostato a settembre, una delle domeniche di settembre, chiudivano la zona e davano tutto a Buenos Aires a una serie di associazioni sportive per far provare le persone, far vedere la domenica in un altro modo e poi giornalizzare. Ci sono tante strade, non è solo l'area a cima, ma anche altre situazioni che possono essere potenziate. La vivibilità è importante, ma anche, e a parte la componente ambientale, noi paghiamo Europa sulle multe per l'inquinamento, perché sforiamo i PM10, come si dice. Noi li paghiamo, noi paghiamo, sono tassi, sono soldi che diamo ad altri, quindi dobbiamo per forza di cosa ragionarci. Astorfi, su turno. Ma io credo che l'area C, ad oggi, sia una fregatura per il milanese e soprattutto per chi viene a lavorare in una città come Milano, perché riportarla... Chi viene a lavorare e nemmeno fa pagare giù direttamente al confidio. All'entrata, all'entrata direttamente, all'entrata della città è più giusto, perché il milanese che già paga le tasse per il comune di Milano non deve anche pagare una zona dove contribuisce già con le tasse. Perché credo che mettere un'altra imposta per entrare nel centro città perché la fine... In realtà il modo ci sarebbe, basterebbe un'entrata in macchina. Io invece credo... Ok, è verissimo, si potrebbe anche fare, ma perché invece non riportare una tassa all'entrata della città? Cioè, entra solo chi arriva da Monza, chi arriva da... Che ne so, Basiano, robe simili. Perché? Credo che una città come Milano può essere benissimo valorizzata anche nel centro città. È vero, ok, c'è tantissimo traffico, è vero tutto quello che una persona mi potrebbe venire a dire, però non viene mai contato che, ripeto, il milanese medio, il milanese anche comunque che non ha grossi problemi economici, paga già tantissime tasse e soprattutto negli ultimi cinque anni con un'ennesima tassa che viene chiesta ai cittadini... Eh sì, è l'ennesima tassa che verrebbe chiesta al cittadino, ma soprattutto con un'aggiunta di sinistra di cinque anni, come adesso e fortunatamente tra una settimana si va al voto, dunque si va a chiudere un episodio nero di una città come Milano, che adesso comunque... Spero che, io ovviamente spero di no, però altri cinque anni così sarebbero duri. Credo che riportare l'area C all'ingresso di Milano sarebbe l'idea più giusta per un cittadino che ad oggi già paga. Va bene, ok, allora io vi ringrazio di essere stati qua, adesso daremo spazio ad altri che appunto diciamo dell'area come noi che sono venuti, quindi io vi ringrazio, grazie mille di essere stati qui con noi, grazie mille. Anche lei Toscano va, grazie. Salino, lei può rimanere qua ancora un po', mi serve anche Toscano, arrivederci e non ci rubi il microfono, per favore lasci pure... no, lasci pure a un cameraman, dopo qualcuno me lo passerà. e quindi chiamo e chiedo di venire, di raggiungermi in studio a un altro studente della Lega Nord, giovane anche lui, Mirko Lorusso, candidato per la Lega in municipio di... sei, giusto? In municipio sei, prego. Mirko Lorusso, quello è... Sono Mirko Lorusso, 21 anni, sono studente di giurisprudenza, da sempre risiedo nel quartiere Laurenteggio, appunto in zona 6 e ho deciso di candidarmi perché durante gli anni ho notato che i cittadini della zona non erano a conoscenza dell'esistenza di un consiglio, quindi di una realtà istituzionale molto vicina a loro. Questo perché? Perché i consiglieri, ad esclusione del momento della campagna elettorale, non erano quasi mai sul territorio a risolvere i problemi dei cittadini. Io quindi mi sono candidato per cambiare il modo di lavorare in consiglio di zona, ormai consiglio municipale. Prego, prenda pure le posizioni, va benissimo, ecco, in quella centrale benissimo e invito ad entrare il suo collega, candidato al municipio 1, ricordiamo quello che abbiamo definito questa posizione è l'unico municipio senza periferie, invece poi ci hanno spiegato che in realtà non è poi neanche così. E quindi lo invito ad entrare, prego. Grazie mille, questo è il suo microfono, i suoi 20 secondi di presentazione. Mi chiamo Sergio Grattarola, ho 27 anni e sono di Milano, milito in Lega da qualche anno, ho deciso di candidarmi perché ho già in qualche modo promosso la città durante Expo, perché ho collaborato con il padiglione coreano, il padiglione di Stato cinese, il padiglione banche e il padiglione vino. Inoltre ho fondato due associazioni, che è l'associazione Lombardia Cina e l'associazione Lombardia Corea del Sud, che si occupano di promuovere dei collegamenti tra la Lombardia, in particolare Milano, e queste due unità. Prego, quello è il suo posto. Allora, Lorusso, parto da lei, l'ho fatta a tutti questa domanda, la faccio anche a lei. Cosa porterà Lorusso, una volta, ora riesco a convincere chi è a casa a votarla, in Municipio 6? Porterò la voglia di lavorare, la voglia di stare sul territorio sempre, tutti e cinque gli anni, e mi metterò al servizio dei cittadini, perché io sono dell'idea che il politico, la politica in generale, debba essere un mestiere di servizio e mai di potere. Noi in zona 6, Municipio 6, abbiamo moltissimi problemi, in particolare sulla tratta Lorenteggio-Foppa, dove hanno aperto recentemente dei cantieri devastanti della metropolitana della linea 4, che non sono gestiti in maniera ottimale da questa giunta, da questa amministrazione. Che non ci abbiamo qua? No, perché noi siamo favorevoli alla metropolitana. Noi siamo contrari. Sai che noi abbiamo fatto una proposta, per cui chi non è favorevole alla metropolitana, poi non la può prendere una volta costruita. Come chi non è favorevole all'ascensore che deve fare solo la chiave. Noi siamo favorevoli alla metropolitana, siamo contrari a questo modo di gestire le cose. Il problema fondamentale è che non c'è comunicazione, non c'è chiarezza. Quindi i cittadini, i commercianti in particolare, non vengono informati dalla società M4, dall'assessore Maran, di tutte le variazioni dei cantieri. Questo è un problema molto, molto pesante. Perfetto. Può passare il microfono al suo collega, da cui vorrei sapere appunto cosa porterà alla zona 1? Allora, sicuramente renderla una zona, anzi, un municipio più vivibile, più comodo, attraverso un miglioramento dei servizi, che in questi cinque anni si sono molto deteriorati. Oggi ad esempio per lavoro ho girato praticamente tutto, il municipio, sia sui mezzi pubblici, sia... Ricordiamo, il municipio 1 è il municipio centrale, è l'area C, centro storico di Milano. Parco di Sempione, non è giusto? Esatto, fino all'arco della pace. Fino all'arco della pace, ecco. L'ho girata sia con i mezzi pubblici, sia con l'auto privata. Con i mezzi pubblici, ad esempio, la 94, ne ho dovuti aspettare ben due, prima di prenderlo, perché era talmente piena che io non riuscivo a entrare. Mentre con l'auto privata, sono andato in zona Brera, e ho dovuto girare tipo 20 minuti per trovare parcheggio. Così, come ho avuto problemi io, ce ne hanno anche i residenti ogni giorno, ce ne hanno anche i pendolari ogni giorno. A questo punto, io ve lo chiedo perché effettivamente quando si parla di Milano, appunto, il problema sono le periferie, la sicurezza delle periferie, e poi quando si parla di municipi, il municipio 9 ha questi problemi, c'è la Bovisa, il municipio 8 ha i problemi, c'è la Gallaratesa, il municipio 7 ha dopo San Siro, Steppa, così. Il municipio 1 è, uno dice, è il municipio dei ricchi, dei shu, no? No, in realtà... Sta tutti bene lì. E invece ci sono dei problemi anche lì? Ci sono dei problemi anche lì, perché ad esempio, facendo valentinaggio nei mercati, molti anziani che abitano in centro, ma non perché sono ricchi, semplicemente perché hanno la casa di famiglia e quindi è la casa che hanno ereditato dai genitori, adesso si trovano a vivere con una pensione, con una pensione che è insufficiente anche magari a pagare le spese condominiali. E questo è un problema. Posso farmi una carta d'identità del cittadino medio della zona 1, appunto, che magari è completamente diversa da quella che possiamo avere noi, che magari abitiamo fuori da quella zona, che ricordiamo è una zona da 80 mila abitanti, che sono la metà di una zona periferica quasi, sono zone quasi superiore di 130 mila abitanti senza problemi. Quale sarebbe questa carta d'identità? Allora, Milano dal punto di vista demografico sta sicuramente invecchiando. Nella zona 1 questo problema è ancora più grave, infatti molti residenti della zona 1 hanno un'età molto avanzata. Quindi anche, parlavo prima di servizi deteriorati, avere maggiori servizi anche per quelle persone che non sono più molto autosufficienti, ma comunque vogliono continuare a vivere a casa propria, non vogliono andare in un ospizio e allora comunque aiutarli anche a casa loro. Non capisco. Stenino, venne invece una domanda. È la prima esperienza, credo, in un municipio, giusto? Ok. Però, da quanto ho capito, ha un'attività politico comunque, di impegno sociale alle spalle già da qualche anno, giusto? Ma io ho sempre respirato politica, se ne ha comunque una roba minima, però come impegno, come candidato... No, 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 diciamo, a che punto c'è? Viveva comunque con la politica intorno a sé, è un impegno civico, diciamo, anche nella città. Quindi ha conosciuto sicuramente le vecchie zone, anzi, dall'età credo che sicuramente le famose 20 zone di Milano, poi scese a 9. Questi municipi invece sono una roba completamente nuova, almeno così ci viene detto. È veramente così? Cioè avrete veramente più potere? Sarete i nostri governanti della porta accanto? E, la seconda domanda, se già che si dovevano fare questi municipi, non si potevano ridisegnare oppure è giusto lasciarli così? Ma, in realtà, questo è un processo molto lungo, anche perché si inserisce in un processo ancora più lungo che la città metropolitana, che non finisce ai confini di Milano, ma arriva... Ecco, proprio lì volevo arrivare. Attualmente la Giunta è impegnata anche a disegnare uno statuto, a valutarne anche una possibile elegibilità del sindaco metropolitano. Cioè ci sono tanti. La idea che parte è stata? Quelli che vuole il sindaco eletto oppure che il sindaco di Milano sia il sindaco della città metropolitana? Io sono sempre per un'elezione, ma questo è per il mio carattere. Ok, ok. Nel senso che non mi piace che quello non scegna per me. Vabbè, immagino le sue riunioni di condominio, cosa ne devono dire. Grazie. Guardi, però sono fortunato perché sono in affitto. Io scrivo sempre in affitto il costo della mia libertà. Ah, ecco. La metto così. Ottimo. Quindi, no, però preferisco sempre poter scegliere qualcosa. Comunque, appunto, torniamoci. Sarete veramente i governanti della porta accanto? Purtroppo no. Non saremo ancora i governanti della porta. Stando la delusione, quindi. Purtroppo no. No, a meno. Non completamente. È un processo, come dico, lungo. Infatti, la battaglia politica che si sta ora, già da questa giurità, indipendentemente da chi non è, è proprio quella di rivendicare che autonomia è più potere decisionale, un budget, un budget che si può, come poter dire, un bilancio che si possa anche mostrare alla cittadinanza in ottica di trasparenza. La battaglia politica è questa. Va bene. Però è anche questa. Va bene. E la mia lista scende in campo anche per questo motivo, per fare in modo che la delocalizzazione, cioè la delocalizzazione, la rappresentanza, venga mantenuta. Nella mia lista, comunque nella mia zona, c'è la proposta, addirittura, di fare il consiglio di zone itineranti, ossia non mantenere la sede attuale del municipio, zona 3, di Sant'Ovino, perché comunque, essendo una zona, sono anche grosse, sempre 100, 100, sono pure delle vecchie 20 zone che potrebbero tornare utili, effettivamente, i vari anagrafi di quartieri. Comunque adesso c'è la bella stagione, dal Parco Lambo si potrebbe anche stare bene, voglio dire, davanti ai propri cittadini a parlare, far vedere come affrontiamoci. Con delle grandi tanniche di Autan, vi auguro di fare dei bellissimi consigli comunali, consigli di municipio al Parco Lambo. Sennino, io la ringrazio, la ringrazio di essere qui. Le chiedo solo ancora un attimo, che noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tre minuti e siamo di nuovo qui a Il Candidato e cambieremo forse un attimo nome, nel senso che per un attimo forse diventerà Telepontida, ma poi vi spiego perché.